E' stato molto partecipato il funerale di Aldo Carlin, 88 anni, di Donada di Portoviro, in prima fila la moglie Anna, i figli Eva e Filippo, il genero, la nuora, il nipote, a celebrare il rito funebre Don Stefano, che ha ricordato le parole dell'apostolo Paolo quando non riusciamo a interpretare i segni che il quotidiano ci indica, sembra che tutto sia precario, ha affermato, invece non è così, e dobbiamo porci delle domande e dobbiamo condividere la nostra amabilità e la nostra personalità, deve essere nota altrui. Aldo ha vissuto fino a 88 anni, ora siamo qui con il fratello, la moglie e tutta la famiglia a salutarlo. Con Anna ha festeggiato il 26 aprile 60 anni di matrimonio, un traguardo importante, ha svolto la sua attività per più di 50 anni, ha iniziato a 23 anni come orologiaio per diventare orefice, era un commerciante di un tempo attaccato e appassionato al suo lavoro. Don Stefano ha sottolineato che la piazza era il suo spazio vitale e che le era talmente legato e ne era tanto appassionato da mettere all'interno delle confezioni dei gioielli l'immagine della piazza con la chiesa e il campanile. Grazie. Grazie.